Signori, bentornati, è giusto dire così, su Dragon Ball Legends Siamo tornati finalmente con un nuovissimo video Ricco di novità, ma soprattutto, soprattutto Me lo stavate domandando effettivamente da qualche giorno Me l'avete domandato anche all'interno della live Blazi, ma per quale motivo non ci stai portando più Dragon Ball Legends? Bene, il motivo ve lo vado a spiegare proprio all'interno di questo video Allora, essenzialmente partiamo da una cosa Dalla cosa più importante in assoluto, secondo me Non ci stavo giocando Non stavo giocando effettivamente a Dragon Ball Legends Ma per quale motivo non ci stavo giocando? Semplicemente perché un pochino è vero Mi aveva stancato Però ciò non toglie che potevo tranquillamente comunque entrare Prendermi il mio login Andare a fare le mie single summon giornaliere E magari cercare di portarmi a casa Sculando così un PG che magari non avevo trovato Anche perché l'ultima summon, se non vado errato Qui sul canale ed in generale proprio all'interno di Dragon Ball Legends Risulta circa più o meno due settimane fa Con il Rising Legends per l'appunto di Tarles Dove abbiamo trovato proprio lui, questo Goku Che state vedendo qui all'interno della mia schermata Ecco Quindi per quale motivo non stavo giocando? Perché sì, un attimino mi ero scucciato Ma perché dovevo fare in modo che mi si attivasse una cosa in particolare Ve la faccio apparire a schermo in questo momento Ed eccola qui Stiamo parlando della Comeback Login Bonus Questa è una cosa che sicuramente non in tantissimi conosceranno Anzi, anzi Ed insomma in cosa consiste? Consiste in un login bonus particolare, speciale, limitato Che possono ricevere soltanto determinati account E il mio account in questo momento È uno fra gli account che ha attivo Quindi questo login bonus Oltre a quello lì che state praticamente ricevendo tutti Quindi io ogni giorno Oltre a ricevere il mio normale login bonus Ottengo 200 Crono Crystal Due Bells Due Campanelle Che credo sia un oggetto al momento non disponibile all'interno del gioco E in più delle Super Soul Delle Soul Come si chiamano qui Ed anche degli Zeni Ed ogni giorno, ad esempio Il primo giorno ho ottenuto 200 Crono Crystal Infatti ne possiedo 205 Il secondo giorno 500 Il terzo 200 Il quarto 300 Il quinto 500 Il sesto 300 E il settimo 500 Per un totale Per un totale di 2500 Crono Crystal Per 7 giorni di login Non so quante Bells Due, quattro, sei, otto, nove Dieci Bells Altre Soul Degli Zeni Ed in più al settimo giorno 600 Zeta Power Di Goku Super Saiyan Che ci daranno la possibilità Praticamente in questo caso Torniamo alla mia schermata Di portarlo Dato che io ce l'ho a 3 stelle Di portarlo quanto meno a 4 stelle Quindi ecco il reale motivo Per cui non stavo effettivamente Né giocando a Dragon Ball Legends E né stavano arrivando video Perché era uscito il Rising Legends Di Tarles Di Cooler e di Goku Ci avevamo pullato su Ci troviamo Goku E da lì decisi effettivamente Di sfruttare quelle due settimane Praticamente di vuoto All'interno del gioco Per far partire Ecco questo comeback login bonus E per quindi ottenere queste ricompense Per rifarmi praticamente Dei Chrono Crystals Senza starli a farmare Perché poi ci voleva davvero una vita Quindi adesso Ho ancora il mio farmabile Però allo stesso tempo Ho questo comeback login bonus Come fare ad attivare Questo comeback login bonus? Semplicissimo Ma non quanto sembra Bisogna praticamente Non giocare a Dragon Ball Legends Per quanto tempo Bisogna Non giocare Cioè non dovete mai accedere Non dovete più aprire l'applicazione Se non l'aprite È meglio Per quanto tempo Non dovete più aprire l'applicazione Per 15 giorni Per assicurarvi Cioè in realtà sarebbero due settimane Però fate Statemi a sentire Cercate di arrivare a 15 giorni Di non login A questo punto E se avete la possibilità Cercate di farvi dire Da un vostro amico Tramite la friend list All'interno del gioco A quanti giorni Di assenza di login Tra virgolette Siete arrivati Io nel momento in cui Mi sono reso conto Che era arrivata 15 giorni D'assenza Perché vi ripeto Il comeback login bonus Si attiva dopo due settimane E Quindi una volta che mi sono reso conto Che era arrivata A 15 giorni D'assenza Ho fatto l'accesso All'interno del gioco E mi è apparso Questo comeback login bonus Infatti io sono al primo giorno In questo momento Anche se nel momento In cui starete vedendo questo video Sarò probabilmente Al secondo Terzo giorno O magari quarto Chi lo sa Dipende Non conosco ancora La programmazione del mio canale Quindi Questo è il motivo Per cui non vi ho portato Dragon Ball Legends E vi sto dando Anche un'idea Un'idea da sfruttare Soltanto nei momenti morti Del gioco Nei momenti davvero bui Dove non c'è nulla E dove davvero Non sapete cosa fare Però questo non è il momento In cui ve lo consiglio Perché hanno aggiunto Tante cose Sono tornato praticamente All'interno Della giornata Probabilmente più importante Di Legends Dove hanno aggiunto Il mondo Hanno aggiunto Ticket E tutto il resto E quindi Allora Io direi Di andarci a prendere Queste missioncine E Direi di Proporvi anche Una sfida Tanti like Lasciate tanti like Se volete delle pull Oddio Potremmo farcele anche qui In realtà Adesso vediamo Allora Terminiamo prima di tutto Questi training Che avevo messo Quindi avevo messo in training Il mio Goku Bellissimo Fantastico Bello bello Questo qui Lo adoro Lo adoro Magari ci diciamo Andiamo a fare Le singolette Giornaliere Che mi mancavano Allora Dobbiamo Prima di tutto Andarci a completare Un evento Della storia A me servirebbe A quanto pare Hanno aperto I bonus Battle Exp Per sempre Perché questa è Almeno la terza volta Che lo faccio All'interno Di questa giornata Quindi ce lo andiamo A fare assolutamente Allora A me serve Portare su Goku Pan della merda Ovviamente E signori Mi porto dietro Goku Super Saiyan Perché qui davvero Cioè Si Sai Baman Sono Quando scappano Dan fastidio Dan fastidio Eccoci qui Eccoci in battaglia Quindi cerchiamo di devastare Allora Fermi tutti Cambiamo prima di tutto Con Goku Cerchiamo di devastare Si Sai Baman E poi Sono Sono davvero assurdi Questi qui Sono assurdi Voi non avete idea E vadono Che è una bellezza E E dan fastidio Danno un fastidio Enorme Enorme Che enorme E dir poco In realtà Allora Per favore Goku Cerca di farmelo fuori Sto Sai Baman Perché davvero Già già la faccio più Te lo dico Dai 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 Per favore Arriva anche l'altro Va bene Potremmo sfruttare Pan Ma sinceramente Preferisco più usare il mio Goku Quindi Cerchiamo di far andare A segno magari My turn Qui che Che ci serve L'ultimate In realtà Ecco qui Va a segno almeno L'ultimate Ottimo Quindi signori Prima di tutto Fatemi sapere All'interno di questo video Cosa ne pensate Della mia mossa Se ne eravate a conoscenza Del Comeback login bonus Se prenderete in considerazione Un giorno Di provare ad attivarlo Ovviamente A quanto pare Lo si può attivare Solo una volta Quindi io si Ho azzardato Però allo stesso tempo L'ho attivato Nel momento in cui Il gioco comunque In una fase iniziale Poi non c'era nulla Davvero Mi scocciavo di giocare Quindi ho detto Vabbè Attiviamolo adesso Così era anche Periodo di anniversario Per quanto riguarda Dokkan Global C'era anche robetta Nel JAP Mi sono detto Mi concentro un pochino A rimettere sul mio account Di Dokkan Nel Global Rimetto su anche Il mio account Nel JAP E poi Ci concentriamo Una volta Finito tutto ciò Con Legends Ovviamente Una volta attivato Anche il comeback Login bonus Quindi Vediamo se siamo Riusciti anche Ad attivare Le missions Per quanto riguarda Anche il ticket Dello space duel Perché sono curiosissimo Di vedere se Riusciamo a Sammonare Una sparking Soltanto con un ticket O ce ne vogliono Ancora una volta Sette Che odio Odiosi Odiosi davvero Cioè di quei ticket Non riusci a portarmene A casa uno Cioè Anzi Me ne portai A casa sette Però non riusci a portarmi A casa una sparking Dallo space time duel Per farvi capire Numero 2 Cioè sto parlando malissimo In sto video Sto parlando male 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 Voi non avete idea Allora Entriamo prima di tutto Nello shop Vediamo un attimino Perché a me A quanto mi è parso di capire Hanno inserito i ticket Ottenibili tramite Esatto Tramite le medaglie Ora io voglio un attimino Vedere prima di tutto Se è apparsa la batch Vediamo Ok c'è questa batch Ci vogliono 5 ticket Lo sapevo tutta la vita Lo sapevo tutta la vita E insomma Sapete cosa vi dico Io mi sa che Un tichettino Me lo vado a prendere Lì Dalle Ah Ne possiamo prendere Alla fine 5 Ce ne prendiamo tutti 5 Dai Assolutamente Quindi quanto abbiamo speso Abbiamo speso 1000 Abbiamo speso 1000 Quindi teoricamente Dovremmo avere Perfetto 6 ticket 6 ticket Da poter spendere Sia nell'ultra ticket summon 3 E abbiamo 2 ticket Da poter spendere qui E signori Che dire Allora Facciamo In questo modo Questo video Questo video Lo dedichiamo soltanto A comeback login bonus Lo dedichiamo quindi Soltanto a questo Fatemi sapere Voi cosa ne pensate Di ciò che ho fatto Insomma Spolliciate assolutamente Se volete un altro video Su Dragon Ball Legends Perché Andremo Di pull Andremo di pull Con i ticket Quindi Mi raccomando Mi raccomando Vediamo solo un attimino Cos'altro c'è Se non vado errato Si sono apparsi Dei nuovi eventi Proprio quest'oggi Quindi abbiamo La possibilità Di ottenere Degli sparking characters Tramite questi Sparking ticket Abbiamo I personaggi Che salgono Finalmente A livello 1500 Quindi abbiamo Diciamo Un nuovo soul boost Per i personaggi Vediamo un attimino Adjustment Cos'è Sparking pan Nuova abilità unica Infligge Danni maggiorati Dagli assalti Ok Quando raggiunge Masterclass Praticamente Quando viene raggiunta La masterclass Per questi personaggi Avete la possibilità Di Di ottenere Una sorta di upgrade Per quanto riguarda La unique ability Non male Non male davvero Questa cosa Me la devo vedere Assolutamente Me la devo vedere Popular Sparking Ranking Ranking Cioè qui si stanno Facendo vedere Praticamente Quali sono i personaggi Sparking Più utilizzati In assoluto E secondo i player Più forti in assoluto Abbiamo Piccolo Goku Super Saiyan E vedete Tre sparking Che abbiamo Poi abbiamo Gohan Kid Al quarto posto Personaggio Che mi manca Poi abbiamo Broly Trunksteen Insomma Il Goku È a settimo posto Quindi non incredibile E Tarly Secular Addirittura Indietrissimo Panno ovviamente Ad un dicesimo posto Manca a dirlo Quindi signori Insomma Per questo oggi È tutto Direi che possiamo Anche terminare Qui con questo video Però tanti like Perché arriverà Sicuramente un nuovo video In cui andremo A sammonare I nostri ticket Ed andremo Un pochino A vedere Cosa ci esce Speriamo Non pande la merda Ecco Quindi signori A questo punto Tanti mi piace Commento Iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti Quindi vedete questo video E quindi noi ci diamo Appuntamento Come al solito Ad un prossimo Video Ad un prossimo